allora ragazzoli cosa possiamo vedere questa macchina qua è una classica macchina normale della sua età quindi scaiono 2008 2010 al blocchetto chiave ho inserito io il volante con il tasto start nell'interno ma la macchina lavora con il blocchetto chiave ciò vuol dire che ogni volta che salgo la vettura devo per forza obbligatoriamente praticamente premere la chiave poi andare a premere il tasto start in questo caso andiamo a rimuovere il blocchetto chiave la rendiamo keyless in questo caso e andiamo a automatizzare le serrature delle porte e gestire tutta l'elettronica e la messa in modo della macchina da una semplice app del cellulare e da due chiavi diverse da quelle originali